La disperazione dei fan non ha limiti. Zain Malik lascia gli One Direction. Il 22enne già la settimana scorsa aveva seminato il panico tra gli ammiratori della baby band disertando il tour nelle Filippine. La mia vita con gli One Direction è stata più di quanto potessi immaginare, ha spiegato Malik nella nota pubblicata sui social del gruppo.